L'odissea di chi ha presentato una pratica edilizia al comune di Modugno e da anni aspetta che lì venga approvata. Sullo sfondo la questione dell'urbanistica e del presunto abuso per 15 anni, dal 99 al 2014, di norme tecniche illegittime, perché mai trasmesse alla Regione Puglia. La mia pratica ha una storia un po' travagliata perché è stata presentata nel settembre del 2012 e come purtroppo tutti sanno a dicembre dello stesso anno parecchi tecnici dell'ufficio tecnico di Modugno sono stati arrestati, tra cui anche quello che si occupava della mia pratica. Mi sono state chieste tutta una serie di integrazioni che hanno portato via parecchio tempo. Ci siamo resi conto che le lungaggini andavano ben oltre la normale trafila burocratica. Tra l'altro devo dire che di scritto non c'è stato dato niente, sono dovuta andare al comune parecchie volte e ogni volta veniva fuori qualche piccolo inghippo che però portava via due o tre settimane. Due o tre settimane alla volta, un mese alla volta, alla fine ci hanno comunicato che le pratiche erano tutte sospese perché c'erano dei vizi di forma nel piano regolatore. La situazione è che adesso nonostante tutto abbiamo dei committenti molto risentiti perché hanno fatto degli investimenti per acquisire le aree, perché comunque hanno una certa urgenza di costruire e di andare a vivere nelle costruzioni che sarebbero state da farsi. A giugno del 2013 io ho avuto dal comune un parere favorevole per cui una volta presentato una serie di documenti che il comune mi stava richiedendo per concludere la pratica, io avrei dovuto avere il permesso di costruire. Cosa che non è mai avvenuta proprio perché nonostante consegnate le integrazioni richieste, i tempi per avere risposte dal comune si sono allungati in maniera indicibile. Ho dovuto diffidare il comune in modo da avere comunque una risposta scritta, un segno, un minimo di presenza da parte del comune. La risposta è stata che mi hanno sospeso la pratica. Io e i miei clienti siamo in attesa che il comune ci dica che fine farà questo progetto, anche perché se dovessero decidere di tornare alla normativa precedente, l'investimento fatto dal mio cliente sarebbe un investimento spropositato. Le imprese che avevamo contattato per costruire sono ferme, sono ferme da un anno. In questo periodo sono soldi che fanno la differenza.